Classe 1954, 70 anni compiuti all'inizio di marzo, molti dei quali come esponente prima in ascesa e poi di spicco della camorra e oltre 25 dietro le sbarre. Francesco Schiavone, ex capo del clan dei Casalesi, da circa un mese è diventato a tutti gli effetti un collaboratore di giustizia e piano piano vengono fuori i dettagli del sistema criminale dei Casalesi, si fa sempre più chiaro che il modello di riferimento era quello di Cosa Nostra. La mafia siciliana, stile anni 70, quella in cui Totò Riina e Bernardo Provenzano compivano delle vere e proprie stragi con l'utilizzo di armi d'assalto militare. Schiavone per ora è stato ascoltato cinque volte dai pubblici ministeri della DDA di Napoli, cinque colloqui investigativi senza bruciare le tappe, andando per gradi, cercando di trarre il maggior numero possibile di elementi utili dalle parole di Schiavone, scongiurando il rischio di perdere tempo, anche perché il boss è in carcere da 26 anni e solo ora ha deciso di collaborare, dopo una prima iniziativa spontanea della famiglia. Per gli anni in cui Schiavone era capo del clan dei Casalesi, servono informazioni relative alle imprese sul territorio che in un modo o nell'altro intrattenevano legami solidi con il sistema di appalti e sovvenzioni pubbliche gestito da Sandokan in prima linea insieme ai suoi fedelissimi. Tra i temi caldi, ruolo del clan durante l'emergenza rifiuti in Campania, i legami dei Casalesi con RFI, società che si occupava della manutenzione della rete ferroviaria, ma anche la stretta collaborazione con Nicola Cosentino, sottosegretario al Ministero dell'Economia dal maggio 2008 a luglio 2010, condannato in via definitiva a dieci anni di reclusione per i suoi legami con Schiavone. La collaborazione di Schiavone non era facile da prevedere, lo dice Raffaello Maggi, uno dei magistrati del noto processo Spartacus. Non era una cosa così facile da prevedere, anzi abbastanza imprevedibile, dato il carattere e il ruolo di comando di Francesco Schiavone. È da un lato una collaborazione fortemente simbolica, perché è uno dei pochi capi delle organizzazioni criminali che negli ultimi anni arriva a fare questa scelta. E poi può fare in qualche modo da prova del 9 del funzionamento del 41 bis, se in questi 25-26 anni è riuscito a comunicare con l'esterno e in che modo.